Bentornati a Panorami. Cos'è accaduto in Brasile? Questo è compito della magistratura che dovrà indagare stabilirlo con certezza e di sicuro la reazione di l'Ure del suo governo appare in queste ore molto forte con l'obbligo alle dimissioni di tutti i responsabili della sicurezza di Brasile nelle varie forze armate nelle varie polizie e anche con la detenzione di un paio di loro però accanto alla questione giudiziaria naturalmente ce n'è una gigantesca di carattere e di natura politica nel senso che come già era avvenuto con l'assalto al Campidoglio gestito non si sa bene da chi ma attuato da truppe tra virgolette cammellate e da militanti protrampisti insieme a milizie paramilitari e a figure dell'estrema destra così anche in Brasile la matrice diciamo così bolsonarista dell'assalto alle istituzioni anzi per la precisione letteralmente i palazzi dei tre poteri della democrazia brasiliana presenta appunto una matrice bolsonarista in questo caso il diretto interessato ovvero l'ex presidente Jair Bolsonaro si era recato negli Stati Uniti in Florida dove è stato anche ricoverato per forti dolori addominali che vengono considerati una conseguenza della coltellata che ricevette nel 2018 durante un comizio e le sue parole di condanna sono molto tenui naturalmente non può alienarsi la simpatia dei suoi movimenti e delle sue truppe cammellate di nuovo più fascinorose dunque sarà come già avviene per gli Stati Uniti il lavoro d'indagine il lavoro di investigazione le sentenze della magistratura a stabilire la connessione diretta ma non c'è dubbio che come già per Trump siamo anche in questo caso di fronte ad un mandante morale Bolsonaro è il mandante morale di una insorgenza di estrema destra di destra populista che sta purtroppo diventando una sorta di equazione ripetere di modello collaudato che si ripete ogni volta che le personalità della politica populista più estrema non vincono le elezioni e accanto alle solite consuete accuse di brogli nei confronti di vincitori accanto alle teorie cospirative alle dottrine complottistiche che anche nel caso dei bolsonaristi e degli attentatori ai palazzi della democrazia brasiliana hanno finito per correre molto velocemente basta leggere i giornali per verificare e sentire cose letteralmente inaudite addirittura sull'esistenza di un algoritmo gestito dalla sinistra brasiliana per consentire appunto la vittoria nelle zone cruciali e nei punti più delicati di equilibrio all'interno della competizione brasiliana accanto a tutto questo però c'è un tema appunto politico che si staglia con grande chiarezza ovvero il fatto che le destre neopopuliste hanno un rapporto non soltanto difficile con la democrazia libera rappresentativa per cui va bene quando vincono loro nelle urne ma ritorna un pregiudizio ideologico che è appunto consustanziale alla loro dottrina politica e tutto questo costituisce un problema un problema molto serio anche dal punto di vista della convivenza civile perché verranno puniti i responsabili anche se naturalmente non verranno sradicate le connivenze le complicità che soprattutto all'interno di certi settori delle forze armate e dell'intelligence brasiliana sono state evidenti e conclamate dal momento che le notizie sulle chat e nei social dell'assalto e comunque della reazione violenta correvano per l'appunto da settimana ed è alquanto bizzarro per così dire che l'intelligence e gli 007 brasiliani non siano intervenuti per tempo così come è assolutamente curioso che la cavalcata non trionfale dei bolsonaristi abbia consentito loro di entrare nei palazzi del potere saccheggiando devastando distruggendo anche alcune delle opere d'arte importanti che vengono conservate a brasilia all'interno di quegli edifici dunque oggi lula si trova a dover governare un paese profondamente spaccato e non c'è dubbio che così come l'incivility che corre all'interno dei medi orizzontali e dei medi digitali la polarizzazione più in generale sia stata fortemente agitata da parte delle destre neopopuliste che da pifferai magici si sono trasformate letteralmente in apprendisti stregoni e oggi per l'appunto stabilire le responsabilità politiche è doveroso per cercare di ripartire a 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